Ripresa degli allenamenti in questo lunedì a Casteldebole per il Rosso Blu in vista della gara di domenica prossima quando alle 15 sul campo del Dallara arriverà l'Atalanta. Nella prima parte dell'allenamento la squadra ha lavorato in gruppo svolgendo un'attivazione in palestra con leggero lavoro di forza per poi spostarsi sul campo dove hanno eseguito degli esercizi di possesso palla con le due squadre schierate. Poi il gruppo si è diviso da una parte i titolari di sabato scorso che hanno svolto lavoro di recupero, dall'altra parte il gruppo dei non titolari che ha svolto una partitella 6 contro 6 su campo ridotto e lavoro fisico finale.